Musica Ok, quanto vuoi? Allora, inutili Un giorno! Sì, sicuro sei! C'è una fidanzata, un fidanzato? Il mio amore, il mio amore per la televisione! La voglia c'è! Un giorno... A vedere... Le elezioni del 4 marzo hanno visto salire sul podio il Movimento 5 Stelle come primo partito seguito dal centrodestra e dal centrosinistra purtroppo per il nostro paese nessuna di queste coalizioni ha raggiunto il 50% dei voti percentuale minima per salire il governo da soli Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il 4 aprile, a un mese esatto alle elezioni politiche ha dato il via alle consultazioni Nel corso degli anni, l'ordine delle consultazioni è stato soggetto a variazioni In genere, gli incontri previsti sono quelli con i Presidenti delle Camere gli ex Presidenti della Repubblica e le delegazioni politiche Dopo due giorni di consultazioni segue l'incarico e il preincarico Successivamente, sarà il Presidente del Consiglio a formare il governo Il problema che affligge il non-governo ovvero la ricerca di trovare un accordo si potrebbe risolvere tornando al voto La Lega è disposta a parlarne con il Movimento 5 Stelle anche se continuano a mantenere pregiudizi contro Perlusconi La trattativa per trovare un accordo sulla formazione di un nuovo governo parte da Salvini e Di Maio I due vincitori delle elezioni hanno escluso la possibilità di creare un governo alla tedesca preoccupandosi quindi dei veri problemi che affliggono l'Italia Secondo l'opinione del CUNI si inizia a creare una Lega Movimento 5 Stelle Un'unione del genere potrebbe significare un cambiamento per l'ottica politica italiana Sarebbe una novità estrema che potrebbe essere positiva al governo del cambiamento oppure al contrario una polveriera pronta ad esplodere L'ultima mossa del Presidente Mattarella è stata quella di affidare al Presidente della Camera FICO l'incarico esplorativo per cercare un margine d'intesa tra il suo Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico La fine di questa interminabile vicenda è vicinissima e il Presidente Mattarella se dovesse ritenere opportuno che anche quest'ultimo tentativo sia inutile potrebbe decidere di scegliere le camere per tornare nuovamente al voto L'attacco avvenuto nella notte del 14 aprile in Siria ha suscitato il timore mondiale per i possibili scoppi di una nuova guerra L'attacco condotto da Stati Uniti, Francia e Inghilterra mirava a distruggere la capacità della Siria di produrre armi chimiche alla luce degli avvenimenti di Duma L'attacco chimico, ricondotto dall'esercito siriano e il tentativo di riconquistare la Guta ha infatti visto centinaia di feriti e ha portato alle azioni delle tre potenze Il bombardamento voleva colpire tre obiettivi uno situato nella capitale e i restanti nei pressi di OMS L'attacco, dichiarato dal Presidente americano Donald Trump in diretta nazionale sembra aver raggiunto l'obiettivo La Russia e il Presidente Putin ha subito tentato di condannare le azioni delle tre potenze in quanto sembrano violare il diritto internazionale Il tentativo non ha però avuto successo ottenendo solo tre voti a favore Se Trump dichiara di essere pronto a colpire nuovamente dove se la Siria ricorda nuovamente all'utilizzo di armi chimiche l'altra parte Francia e Inghilterra si dissociano Il Presidente francese Macron cerca infatti di collaborare con la Russia dicendo di essersi trattato di un singolo episodio non mirato ad uno scontro mondiale Il Presidente al-Assad ha annunciato che alla luce di questo episodio la Siria è ancora più determinata nella lotta contro il terrorismo In Italia i vertici del potere non hanno assunto posizioni chiare riguardo l'accaduto ma l'obiettivo finale sarebbe quello di sganciarsi definitivamente dalla Nato e di conseguenza dalle potenze che hanno agito violando le leggi internazionali Le prossime settimane saranno decisive nella risoluzione degli sconti tra le nazioni coinvolte Rapidità di pagamento o stratagemma finanziario? Questo, l'interrogativo che il 7.30 precompilato ha scatenato tra gli italiani divisi in due da questo nuovo modello di pagamento rapido e utile per molti insicuro e poco chiaro per altri Sono 40,9 milioni italiani che il 31 marzo 2018 hanno compilato la dichiarazione dei redditi un aumento di circa 100.000 persone rispetto al 2016 dati che, come afferma Acquifinanza, danno una boccata d'aria alla situazione del fisco italiano Probabilmente la semplicità di compilazione del 7.30 potrebbe ancora di più far lievitare i numeri del 2017 alleggerendo le enormi file davanti al COF e collaborare al risollevamento della situazione economica nazionale Ma sono pronti i contribuenti italiani ad affidarsi ad un sistema di dichiarazione dei redditi interamente online? Durante il congresso USA ha avuto luogo il 10 aprile 2018 Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore di Facebook ha ammesso gli errori compiti dal social network assumendose nella responsabilità Si è parlato per 5 ore del caso Cambridge Analytica una società alla quale Facebook ha venduto i dati e le informazioni personali di più di 87 milioni di utenti iscritti al social network che sono stati usati successivamente per scopi pubblicitari Nelle ore successive Zuckerberg si è promesso di migliorare la piattaforma Infatti Facebook offrirà una ricompensa in dollari agli utenti che sono stati abusati Inoltre è stato creato un programma per scoprire i bug prevedendo un premio in soldi a chi li scopre In realtà noi autorizziamo Facebook a vendere i nostri dati personali nel momento in cui effettuiamo l'iscrizione al social network e accettiamo le condizioni d'uso senza leggerle Quindi siamo d'accordo senza rendercene conto Alla luce di quanto detto prestate attenzione a quello che leggete ma soprattutto a quello che pubblicate perché anche se lo scrivete di mano vostra non è detto che vi appartenga Recentemente si è discorso molto del caso Fair Play del famoso portiere Luigi Buffon Per Fair Play si intende gioco corretto e c'è comportamento rispettoso delle regole che lui nella partita Real Madrid-Juventus non ha avuto La polemica parte da un rigore a favore del Real Madrid al 93esimo minuto Buffon dopo il fischio finale che ha dato la vittoria alla squadra avversaria accusa l'arbitro di essere stato scorretto a fischiare in quel momento compromettendo la vittoria Inoltre sono stati molto sgraditi gli insulti pesanti e andati in onda sotto gli occhi di grandi e piccoli Questo non è l'unico caso di Fair Play per Luigi Buffon Qualche tempo fa prima del fischio di inizio d'Italia-Francia durante l'esecuzione dell'inno francese dalle tribune dei tifosi italiani cominciano a sentirsi dei fischi e Buffon inizia ad applaudire a favore della squadra avversaria comportamento molto apprezzato dai tifosi dalla stampa francese Sono tante le accuse rivolte al portiere bianconero però senza raggiungere una valida motivazione a questo punto non è semplicemente un doppio gioco basato sui favoritismi Gli aspetti positivi perché di natura sono così Io sono emozionato veramente emozionato di aver visto una squadra simile di aver avuto dei compagni che che hanno buttato ovviamente il cuore oltre l'ostacolo hanno fatto una partita di sacrificio di sudore, di tecnica, di tattica, di cuore cioè qualcosa veramente di impensabile e per me il più grande orgoglio è essere il capitano di questa squadra Detto questo il Real Madrid ha passato il turno ha vinto, gli facciamo i complimenti ha meritato, sono una grandissima società una grandissima squadra grandissimi tifosi perché sono stati veramente carini ai miei confronti e li ringrazio Ok, quanto vuoi? Allora, inutili E' un giorno Sì, sicuro c'è C'è una fidanzata, un fidanzato Il mio amore, il mio amore per la televisione La voglia c'è Un giorno Allora, arrivederci Arrivederci Al prossimo... Allora, un giorno Allora, resti Allora, resti Allora, resti Grazie a tutti.